Allora, Allora Buonasera, Buonasera Allora, Vediamo un po' Buonasera Buonasera Okay Okay Ragazzi, Buonasera Mega partitona A Padman Che anche se non vi piace Me ne sbatto le balle Nuova partita Il prete Il prete che mi ha portato fortuna L'altra volta Anche se Qua è andata male Uh, Aspetta Ma, Scusami Ma Oh, Ma Ma che cavolo Non abbiamo abilitato l'espansione Cavolo Come fa se le figa Una nuova espansione Finale è nascosto Finale viene rivelato Il dito del gioco Cioè Va bene Il dito del gioco Oddio, Banni di sangue Oddio, no No, no Le sue rinascita Non è come il gioco Il dito del gioco Il personaggio No Il personaggio è nascosto Porta Creazioni Incrementali Ok Vite esaurite E' molto improvvisa Il drago Vediamo che Ah, ma io ste roba Non avevo mica visto Ste roba qua Interna Il soro del drago Il re del drago Se un signore di drago Viene incoronato Quando è già re Ok Lancia la magia E' fatto scuro Altro Azz Oh, ma Ma che cavolo Ma 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 C'è un po' di regole nuove Ragazzi Oh C'è delle espansioni nuove Lunga vita Ok Va bene Però I signori draconici Ok C'è una cosa in più Quindi c'è questa roba in più Che Torre del drago Ok Quindi c'è la torre del drago Una espansione nuova Oh Vabbè Partiamo Minotauro Cacciatore Come Minotauro Cos'è sta roba Ma che cavolo Voglio dire Che per chi viene Puoi travolgere Il risultato Del suo tiro Azz E questi Chi sono Come cacciatore di drago E questo l'abbiamo visto Ma no Aspetta Però l'abbiamo visto D'altra volta Svegli Siamo No Scaglia di drago Che ha messo Il signore draconico Quella partiene Quindi io ho preso Una scaglia di drago No 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 Milan Oh chat Ok Ok Forza 2 4 Quindi 4 6 E già Oh Dai E' ucciso Il primo goblin Yeee Ok Va bene Va bene Minotauro Cosa fa? Sto pensando Cos'è quello? Ciao Ciao Ma no Ma gli sfonda Già la sentinella Cioè Sfonda Già la sentinella Entra Così Al secondo turno Già Oh Vabbè Metti una delle sue sky di drago Il tuo giocatore Ma che cazzo Ci succede qua ragazzi No fuori Noo Ma che cavolo Due Aspetta Due è forte Posso anche farla Nove Forza Brode Sfantulo Sì è forte Già Infatti Eccolo là Al secondo turno Bastardo Vediamo Vediamo Non rompere le balle Ho suo contentio Cavolo Già Secondo turno Come favo? Ma cazzo Tre Oh No Nulla Non c'è motivo Di Nisciturno Sì è forte Minotauro È forte È forte Ragazzi Cazzo Noi i tuoi seguaci Come perdo una vita Che cavolo è sta roba Perchè Ah lui però Non io Stavo già sentendo Mai Oh Cazzarola Fammi togliere Qua Non la vedo bene No Dove forza Tre Oh Cinque Grande Scambio 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 Trofei Tac Scambio Per forza Tac Tre Sei Sei Vai Qua non c'è nessuno Grande Vieni Tire Motto No Mi ruba Il bottino Ma perché Ho Stipi Rimato Vabbè Possiamo andare Uno Perdo Perdo un turno Perdo un turno Dove è Minotauro Oddio ma dietro c'è un altro Ma che cazzo Cinque Ok se vado lì Posso scendere Invece Nella casella Gettone incontro Guarda l'incontro Una scaglia di drago Pesco una carta Gettone incontro Odaro Cos'è Rimarrà qui Devi decidere Se uccidere Uno dei tuoi seguaci No No Ho perso Tutto vita Ma che cavolo Tutte carte sono Che vale Che cavolo Di dire Quattro Al sicuro No No Non abbiamo La cara Mi sfiga Sto tirio No No I cessi Cessi Figo Non mi ruba Niente Niente Un altro punto vita Perfetto Sto facendo schifo 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 Va bene, ci sta, nel boccale magico. Un po', sei, no, due, tre! Vale, ok. Ah, oggetto l'incontro. Invece di tirare le dalle del tuo movimento potrete trasportarti in qualsiasi... Oh, bene, bene, seguace. Strane carte sono queste. Strane carte, davvero. Ok. Il conclave rimarrà qui per il resto della partita. Puoi scartare uno dei tuoi oggetti per prendere una scaglia di drago. Devi pescare un segnale o drago. Esca un oggetto del drago. Non so cosa serve, non lo trovo. Pinotauro. Scartone i tuoi oggetti. No! Ma no! Devo scartare un oggetto e scartiamolo. Vabbè. A me che pare? Non ho capito queste espansioni. Che è diversa da quella d'altra volta. Vai, vediamo un po' cosa c'è. Oh, il tempietto. Vediamo un po'. E vuole. Ieri dadi. 4. E 1, 5. Quindi, ok. Ricopero una vitalità. Che male non fa. Ma io puoi scartare subito. No, ho sbagliato. Andiamo qua. Oggettoni incontro. Vediamo qua c'è. Ogni volta che peschi magia puoi pescare una carta in più di quanto richiesto. Devi scartare una magia che non puoi tenere. Ok. No, questo non mi interessa. Prendi il seguaggio. Oh, finisci tutto. Perché magari sono tutti seguaggi. No, dai. Non mi rompere le bande. Comunque è brutta sta cosa del drago. Non mi piace. Vai. Ok, sono all'interno. Non sa nulla perché tanto non posso fare niente. Quindi sono nella via interna io. Questo è giù di draghi. Dai, muoviti. Ma che palle però sta cosa che finisce il turno. guarda. Guarda. Tira il dado. Guarda. Vediamo un po'. Cosa ci aspetta? Oh. Ah no, aspetta. No. Qua diventa... No. Qua diventa... Stesima carta avventura. Oro. Perfetto. Io sta cosa non l'ho capito. Poi dopo vedo se si può togliere. Perché ok, l'espansione del drago. Va bene. C'è quello che vuoi, ma... Ah no, aspetta. Non l'ho fatto. Ok, incontri. Ok. Distruggi lo spirit. Vai. Nooo, ma basta se ti rimarci. Uh, ho vinto. Ma non so neanche io come ho fatto. Ok, due la stuccia. E prendo gli oggetti. In sciturno. Perfetto. Quindi abbiamo un round. Perché? Io non voglio finire adesso. Nooo, cosa è successo? Abisso. Cinque. Ok. Nooo, devo tirare l'idea. Sei. Ok, quindi lei, la vergine rimane. Questa. Tre. Ok. Perfetto. Fatto. Lugì, minchia, veramente. Come è finito? Ma dai, ma non... Ma che schifo. No, sta qua è brutta, minchia. Non la voglio, questa modalità. Mi fa schifo. No, ora la tolgo. No. Eh, eh, eh. Poi si leva prima. Prima ce l'avevo fatta. Come l'ha fatto? Ah, ecco. Mazzo leggendale. Ma nooo. No, non lo voglio. Allora. Questo mi sta bene il pacchetto. Mi sta bene il pacchetto così. Drago. Ok. Sta benissimo. Ah, il drago è una settimana. A me sta bene, ma il finale è predispendibile. Punta di mano. No. Non provo per niente. No, no, no. I personaggi casuali. Ma va. Ma che cavolo fanno sta roccia? No, no, no. Morti improvviso. Una ceppa di mie. Non ascoltare i video che tu... Ok. Ah, ok, ok. No, 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 ok. No, no, no. L'ho messo. Siter uniche. Ancora sti cazzo? Non lo voglio questo. Vabbè. Vabbè, proviamo un po'. Vabbè. Ancora? Un mazzo drago? Un casino. Non è che mi piace tanto. Oh, vediamo un po' i dadi. No, perdo una forza, ma... Oh, cagata, eh. Non è che si può inviare la forza. No, non è che se va. No, ma... No, non è che se vaavais' davvero... Then, non è che... Non è che ne puoi volerci. Non è che so. Tutti, tutti hanno, scusate, vi ho, vi ho infettato con la peste. Ok, a cavalcatrice di draco. Uh, perde forza. Andiamo bene, andiamo proprio bene. Allora, prendi partito. Ridali, sei. Andiamo qua, va, mi fido un po' di più. Uh, ok. Incontri. Cinque al castello. GG. Dove sono? Sei. Affronta a casella un gettone incontro. Perfetto. La caverna rimarrà qui per il resto della partita. Pesca un segnalino drago. Pesca una scaglia di drago. Corrispondentare dei draghi e poi prendere immediatamente. Altrimenti risolve il segnalino normalmente. Ok. Perfetto. 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 Va bene. Perfetto. Perfetto. Non si capisce cosa devo fare Ma bu Allora Ma quindi Cosa sta facendo qua No io non voglio niente io Però aspetta armatura Ma sta roba non mi interessa Ma Non mi interessa sta roba Stato giocatore Ok Un gettone sonno del drago Consente a chi l'ha pescato di piattare un gettone sonno del drago I gettoni sonno del drago Riducono la forza e l'ascuzia Tanto sono già scatti Ciao Levi Come è possibile Eh non lo so Com'è possibile Lo usa a sabato e ogni tanto io Quando c'è un tubo Che non ho voglia magari di usare il mio E portare gioco un po' più di nicchia Porto questo e via Un gettone sonno del drago Su un drago scoperto Su un nemico scoperto Oh Lo lo metto Un spin famoni Ecco appunto Appunto Sta mer... Sta mer... Bella Beh Davanti Davanti no? Dove vuol dire sta roba? Quindi? Ah Così proprio Ma scusami eh Ma Ma che si fa? Che sei inchiodato? Un giocatore Abbandona Oh Sai che non so Continuo Ah Oh 5 Boh Vabbè Non ho capito cosa è successo Però vado Esca tarta avventura Forza della vita E qui si trovano punti vitalità Ah Dammene uno Grande Ok Quindi si guadagna Ogni volta che ci vai Guadagna un punto Vitalità Aspettia Oh Poi metto Fonte della saggezza Guadagna un asputta Quindi ogni volta che vado Pio una asputta Yeah Cos'è quello? Minima Oh C'è C'è una cavalcatrice di draghi Due Vuol dire che se li trovo Via via No L'incasatrice Quattro Guadagna un asputta Allora Le Sta diventando Intelligenti Ma non forti Purtroppo Tutti lao Cazzarola Tutti Via via Ok Tiriamo i dadi Sei Un barbara Ti aiuto E guadagna Una forza Yeah Un po' più Forza Un po' più Forza Non sono Un po' più Scaberto Ah ho paura Andare Ragazzi Ma Posso fare uno Cinque Guadagna una forza Yeah Hai sbloccato Uno di su No Non c'è uno di su Però sto diventando Un po' più forte Pochino Non troppo Non tantissimo Però Meglio che niente Oh via Andiamo qua Spero diventare forte Come un'altra volta Così Tre No Butto un feto No 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 Più Aspetta Non turno Quindi Tirare i dadi Uno Vabbè uno Possiamo andare qua Uno In pianura Astuzia Un'ombra in agguato Negli angoli oscuri Di questa area Resterà qui Finchè non sarà Uffita Perfetto Ci siamo noi Per essere eliminati Vai Via Cinque Ok Vediamo quanto Undici Questo neanche è Ho vinto Cinque Benissimo Uno spirito Ci toglie Vai Tre Ok Vediamo un po' Se Vartara Un seguace Aggiungi due Alla tua forza Nante il combattimento Oh Che figo Quindi ho sei Di forza Yeah Va bene Ci sta Ah ma ci sono scritte Ah ma sei stupido Io qua non l'avevo mica visto Scegli i mazzi Che vuoi Bello Non incontro Evento Pesca quattro carte Dal mazzo reddito E piazza le scoperte Sul villaggio Ok Uova di drago Punta di smalto Non può essere vitato No Spirito di drago Prende una scaglia di drago Questo cazzo Mi distrugge Ma che carino Uova di drago Bellissimo Uova di drago E' bello 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 Cavolo Ok vai Vai qui Ovviamente Mi sono incontro Grigli pili Noo Ma come Maledetto Questo drago Mi polverizza L'anima Questo Ecco Lo sapevo 8 Più altri 2 10 Pari No Tira il dado No Ma spaccarli tu Basti No Ho perso Ho perso Ma devo lasciare Tutte le magie Porca Merda Mi ha Mi ha Distrutto Lo sapevo Qua Ci sono incontro Il nido rimarrà qui per il resto della partita Prendi le prime tre carte dal mazzo dei reti draghi senza guardarle O cambia Le vedi Prendi E quindi cosa mostra Non si capisce cosa ho visto Va bene Cazzarola Ma ce l'avevo gli sti guagli Cosa dice Scemo Non si capisce Vabbè Ma c'è un po' Da capire Stana Oh Un colpo Così Che giocatore che la pescando Deve pescarsi due gestora Aia Io non ho pescato niente Se volete Io tutti gli incontro Ok Oh no La mia porta Due Vai qui Gettoni incontro Forza Uh La tua forza è inferiore alla tua astuzia Deve affrontare in combattimento Oh madonna Sapevo che Per essere la partita Ma ho capito che devo smasciarmi C'è un'armatura Continua Eccolo Eccolo Per culo ho vinto Mamma mia C'è un'armatura Inventario Oh Ecco lì Non ho capito Mesta Tommazzo di drago Non ho capito Vincine No Sei Vai qua Progetto di incontro Astuzia drago Oddio ho pescato sta roba Mamma mia Ma non le voglio sta robe Perché mi devo Hai ancora Oh bene bene Stasera Ci ho un po' 14 Sperdiamo Colverito Questo mi ha nienta Che palle Sti dadi Un po' Un po' Un po' Per l'amore Non lo so Non lo so La l'amore Una Per l'amore Perfetto Eccolo Il po' Un po' Che palle Che palle O Pesca 4, vabbè cosa ho fatto, domani. Drago Vampiro, bello! Ma perchè mi devo rompere i coglioni? 16, ma come cazzo si fa, dai! Ma va, fanculo, vai, coperto. Vediamo un po' qua. 6. Ah. Cosa fa più 6? Un barco? Finisci tu. Vai, fatti indietro. Ha rotto i coglioni con questi draghi, mi stanno veramente rompendo, però. Mazzola. Oh, sai, il massimo che posso fare. Questo stronto la smette magari di fare cose. Oh, continuo. Nooo, ma perchè va ancora? Ma quanti ce ne è, oh? Brutto stronto. Oh, 6 di nuovo, minchia. Facca. Pari. Non male. In cammino pari. Forza. Cambia trofei. Oh, questo. Cambia per forza. Vai. 6, 6. Mamma mia. Che palla. Che palla. Non c'è. Doveva rompere le palla. Quattro. Vai. Credo lo stregone. Uccidi un nemico. Si tira. 5. Così ne traiamo nemiche, oh, ma che palla. Se goto un Drago puoi catturarlo o di attaccarlo? Posso usare il bastone il Drago? Ok, buono! Posso catturare un Drago? Fine, dico! Sono il più scarso! Ha rotto i coglioni! Ho rotto veramente le palle! Ciao! Distruggi spiriti! Ah! Ho cacciato gli spiriti, bene! Tira Dado! 3! Hai rotto veramente il cazzo! Ma l'hai rotto proprio! Ritira! Non pare, meno male! Oh! Non pare che cazzo! Perchè fa così? Un po' lebelino! Ok! 3! Al cimitero! Oh! Oh! Ok! Ok! Mi ha ributtato indietro! No! Tra! Non mi ha buttato indietro! Mai! No! Lo fa! Ma basta sti Draghi! Perchè? Basta! Ma io lo so io! Eh! Sì! Certo! Facciamo schifo così! Ok! Vale! Ma vaffanculo perso! Ah! Bravo! Ehm! Forza merda! Devo rifare la capa! Che sfiga queste carte! No! Ma non vinco mai questo gioco! Non ho mai vinto! Proprio sulle carte che sono sfigate! No! C'è un saccadello! Non c'è un saccadello! Ma da qui! Nel tuo prossimo turno! Puoi essere in una casella di una regione qualsiasi! Ok! Ok! Non ho mai vinto questo gioco! Ok! 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 No! Ah! Ah no! Subito questo! 3! 3! Tre tiri di dadi! 4! Pronta casella! 2! 5, prendi oggetto, tiri i dadi ancora, 5, ok, colta casella, 5, ok, a tua scelta. Ancora scertetto, astuzia, oh, che vale, vabbè, astuzia forse è un po' meglio, 2, 2, 6, via, 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 sciamano, via, fatta. Quello è già arrivata la corona, quello già, già lì, sono qua a menarmela. E dai, non è mai fatto così adesso? Questa roba c'ha quello? Non me lo fa fare, perché? Dove sono io? Non me lo fa fare, non c'è niente più dato, vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè Oh, sentiamo. Eh, ok. Ma perché fa così? Scegli una carta e il tabellone. Mostra. Questa è un po' più. Una. No, qui. Affronti a cadar. Eccolo. Perfetto. Perfetto. Ok, sta usando un giocatore. Quindi quello lì è già lì. È già la... Guadagni una forza. Finchè, è affatto guadagnare una forza. Qua c'è, ma non può far di... Oh, ma che... Perché devo far ste robes? È possibile? Eh sì, va bene. Ciao. Ma è morto quello lì. Perché è morto quello? Tira il dano. Ah no, ha coppato il godo. Cosa c'è qua? Guarda delle rune, drago misti con me. Un po' qua. Ci sono incontro. Ok. Ok. Mido dei drago. Cosa vuoi fare? Non perdevo una vitalità. Non siamo contenti. Ma forse è più bello normale. Cosa vuoi scatare? È un altro scelto. Sì, questa espansione non è che siamo proprio il marco. E a lì. Un'altra vitalità. Siamo a due. Dove è rimanere. Che eccesso di partita. No, perché è scoperto l'automaccio? Perché non sono pronto. Ma io provo a farlo. Mamma mia. Mamma mia, cioè. La dì di merda, no. Tutte le volte... Beh, è una casella. Ancora sti draghi? Mica ora lo tolgo. Mamma mia, tu coglioni. Mamma mia, tu. Basta. Mamma mia, tu il cazzo. Tu bravo. Perfetto. Benissimo. Vitalità, podo. No, poi lo tolgo. No, poi lo tolgo. No, poi lo tolgo. Com'è cazzo si fa? Sto la... Vabbè. Sì, ho 800. Sì, mi ha dato uno schiaffo. 26. Ma vaffanculo. Vai a fare un culo. Esci dal gioco. Scusate, eh. Non scogliucare così, cavolo. Non è possibile. Troppo puoi giocare. Allora, gioca. Mi muoca. Chi? Allora, no. Cosa fa? Sì, mi soffro. Allora, via. La persona di chi? La persona di me mi vanno bene. No. No. No, non vuoi. Basta. Non vuoi. Non voglio. Basta. Sono costretto, quindi è su... Ah, ma questo fa tutto barbino. No. Non voglio. Voglio sui personaggi. Oh. Eh, che barbino. Può giocare normalmente. Allora, non voglio sui personaggi. come musica no non c'è dottor johnson no no non c'è no tutto ciò non c'è salta il prossimo giocatore lunga lì una vitalità iniziale o la prestigiatrice il druida per giudice sempre vediamo il dado ah si tirano le maggiore di loro meglio così meglio così ok 3 ti fa perdere una scucia tira il dado benissimo 4 oh perché ho perso nooo ho perso un po' vita ma porca non ho letto bene sei qua ci prendi il mulo aspetta no aspetta ok a fronte a casella ah i picchi ma basta a ste cavolo di carne oh una forza olè la mia linea pura tutta a casella pesco una cazzo non l'ha fatta cerco un campione vabbè finisci tu cambia allineamento no ma non è io allora come ho perso perché ho perso perché continuo a perdere a perdere delle vite perché ma stavolta non c'entra niente però no mi spiega adesso senza motivo tra i draghi combatti perché a me partiamo alla pari ciao ciao dobbiamo fare il serio pure minchia ma che palle oggi proprio è tiro di là di sforzo esatto riscardo ecco lì ma benissimo non ho avuto nulla di buono questo tipo zero uno sempre costi uno porca miseria sempre oh cosa fattetto aggiungi solo al suo possibile meno male non è che ci faccio niente però potete andare ad ingannarlo cinque una vitalità oh tre qua c'è il demone quattro atticchiamoci con l'emure dai tira il dado quattro esce adesso il quattro che mi serviva prima bello spiegato nooo perché a me che sì ovviamente se non mi immobilizza non sono contento perfetto mamma che tiro che tiro che tiro ha rotto le balle a me vai animato porca miseria ma cos'è oh nove certo questa è una bella vitalità oh lì molto bene che casa di partita brutta questo è brutta 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 no ma basta ma cos'è ma perché ma non capisco io ma io lo so vabbè nove vabbè ho vinto meno male oh il talismano mio meno male una è la mia vita no meno male quattro due monete d'oro due qua vado da quell'altro il dottore vai uuuu non male stavo proprio molto bene la vitalità va bene drago livello 7 goblin vado da goblin 5 oh vediamo 5 2 8 7 uh per poco oh altri soldi eh ci usiamo tutti dal dottore uno nooo nooo ma ma perché mi ha matato lo spirito vabbè dirai e dai costi uno oh meno male scarsa anche questo ovviamente ombra ombra vabbè possiamo attaccare l'ombra 4 4 ok 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 molto bene nooo noo nessuno è ancora andato Oh, altri soldi, ma non mi servono questo, non mi servono se vado dall'altra parte. Ok, un altro aspetto. A me non sono malvato. Ehm, vabbè. Ovviamente, 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 ma non sono tuosi, giustamente. Nooo, cavolo, ma stiamo scherzando, via, via. Ma forse, ancora soldi, ma basta, me ne faccio i soldi. Vediamo, cosa potrei fare qui? Allora, ma a me non c'è. Allora, anche se non c'è. Un bel tiro, quattro, dieci, siamo già, già male, va bene infatti, mi ha picchiato, va bene, ho picchiato, quindi ho perduto la vitalità, due, porca puzzola, no, faccio qua, no, sto pronta alla casella, dottore. Via, ok, sono ritornato però prima, tre, qua, vediamo che casella mi aspetta, no, no, sono diventato scarso, ecco, non lo sapevo io, adesso, adesso sì che eri 14, ciao. Ciao, ciao, lasciate a rubarmi i talisman, da barba, me la rischio, ogni tanto qui, ecco, olè, però non l'ho fatto niente perché è già quella di base, meno male. 5, ok, allora, questo che lo vediamo, villaggio, La sfidiamo, eccolo, eccola la stronzata, ma lì è diventato rotto. Ficca che è tu, ma lì è del quale. Mamma adonato. Cosa deve fare? Un rospo ha una forza, yeee, che figo, rospo furtuto. Ma perché? Ma a caso? Ma no! Mi pesta, ma dai, non è possibile! Eccolo lì, perdiamo una bella vitalità, bellissimo! Devo dire che provo a partita magica! Parca puzzola! Di nuovo, vabbè, andiamo di nuovo qua! Adesso lo vediamo, adesso! Adesso, adesso! Quattro, otto! Cioè, allora, schifo qui! Perdo un'altra vitalità! Ovviamente, ovviamente! Ma questo gioco è ben cattato! Tutti storti i dadi! Mi c'è una buona mano! Sei! Ok! Ormai! Neanche la mano buona! O che è questo? Dai, diciamo lì! Giù lì! Ok! Ok! Qu'è? Awww Awww Wow, aw Non si non è giusto mai Ok Quello è già bello che è andato, benissimo. C'è il cavalcatore di... perché ce l'ha con me questo? Nooo, rimane... Ecco, perfetto. Perfetto, perfetto, un turno. Ancora! Ancora! Ah, ma perché quella... Ah, la corona del potere, aia! Eh, ci provo, ma è difficile. Usa l'acqua, usa l'acqua. Ok... 3, 3, 6... Niente... Opla! Si ha ucciso! Benissimo, quindi... Ah, è di veloce, guarda, non è. Quando questa c'è andata, lì... ...dobre... ... 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 niente. 4. Ma c'è, ma non è possibile. 5, 8, non vado. Guarda, 20 buono. A caso, un ladro buono. Robi nude. Oh, da me stanno chiedendo. Ah, ho. Aspetta, ooooh Come oggetti? Ok, continua. No, diventi malvagio. A caso, vabbè. È durata poco, cavale. È durata poco la mia guerra. Per essere buono. Mamma mia che c'è. No, però aspetta, sono malvagio. Quindi, se sei malvagio... Ah! Ta-da-da! Ripetito. Non è tutto il male. Tutto il male viene per nuoto. Questo gioco è guerrino o guaranto? È guerrino. È guerrino. No! Ma come ancora? Ma basta! Ma cos'è? Ma porca mia. Siamo guerrino. 4, 7. No, va bene. Mi deve polverizzare? Niente, devo fare schifo. Ho perso un punto vita. Ah! Il città di drag ha perso un turno. Va bene. 4. Ok, vediamo il dado. Cosa esce? 2. Un po' alticcio. Combatti contro un contadino! Ma che cazzo è questo? Madonna, che faccia. Ha il naso schiacciato come chi è lì. 5. Però... Cioè... Eh... Allora... Sì, ma... Un'altra vitalità. Perfetto! Che bella sta partita. Fa schifo. Madonna. Non è possibile. Se ne esce un dado giusto. Allora... Così. E dai, cos'è qua? Un straniero. Tira un dado e piazza l'eremita. Cos'è? Corrispondente. Il primo personaggio che va a visitarlo, riceve l'esterno. Ah. All'epro. Sei? Nella foresta. Un'eremita dei posti. 4. Sì, andiamo di qua. Arma... Nessun po' sa... No! Ma che palle! Non posso prenderla, perché sono malvagio. Ma che... Vabbè, vabbè, vabbè. Seguace. Eh, vabbè. Questo lo prendiamo. Aggiungi uno a tutto. Vabbè. Oh, oh, oh. C'ho... Io sono un po' malvagio. Eh... Se prego. Continua. Prego. 4. 4. Ignorato. Sì, 2. V-oggetto. Ma ancora? Eh... Proviamo... No, forresti. Uno? No, questo è talisman! Oh, yeah! No! Forza 4! Ma questo mi sfonda! Minchia, poi faccio questi tiri di minchia! Dove andiamo? Oh, dai! Che tiro! Eh, ancora peggio! Uguale! Questi tiri di minchia! Che figa! Oh, ma un tiro giusto neanche a morire, neanche a pagarlo ormai! Vai qui! Ah, non ci provo nemmeno con questo! Figurati! Eh, due! Figuriamo! Cinque, cinque, nove! Ho fatto in partenza adesso! Figurati! Ciao! Ho perso, ovviamente! Ho perso! Che stai facendo? Due, cavolo! Non abbiamo messo questi ragazzi! Non li coi! Eh! Gli incantatori cerca un valente avventuriero, con astuzia 4, 1, 2, 7, 4, vabbè. Ok, andiamo qua, assorbe tutti gli incantatori, ok. Ok, buongiorno. Ok, andiamo qua. 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 Andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Quattro che ho fatto. Andiamo qua. Andiamo qua. Ah ok, devo rimuotare e sfregionare. Sì, ritrovo. Beh, 1-6. Uh, finito. Sempre sto cazzo di poterlo. Ma per personaggio? Rubo oggetto. Oh! Eh, tutto io sono in sport, già. Ma come mi ruba tutto? Sì, è vero. Eccolo qua. Allora, andiamo qui. Un altro oggetto qui, però tiro il dado. 1, certo. Uno spirito ti attacca? Vabbè, questo è un po' male. 3-7. Sì, è un po' vita. Un po' muoio. Un po' uno. 1-6. 10-11. Allora, forza. Ok, quindi ho 6 di forza. Ok, quindi ho 6 di forza. Affronta. Un po' di forza. Un po' di forza. Un po' di forza. Ok, tutto pianeta porta. Awww! no troppo c'è Ho rubato la spada, yeeeeh Dai però bisogna muovere Questa è di porta, man Ok, va bene Ok, non c'è Non mi ha detto poca, ragazzi che rompe veramente le basse Eh, cancatrice, diciamo il dottore Oh, ma ha liberato il rapporto Perché dovrebbe Ok, è buono No, non mi ha detto buono Chees No, non mi ha detto, no Insomma, è così Mora cosa che stia mai sceglere? Noi è quello che stia di maggiore Nooo e scurro vai sentinale, otto come te non sono proprio Oh sono entrato! In... olé! E poi qua... Morso! Sette, vediamo un posterito, un minuto, quattro, un buon tiro! Buon! Ehm, guarda fort, no? Sì, guarda fort! Oh no, ok, questo è giro! Ehm... la tua fort! Ehm... 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 Nooo... Adesso, adesso... Un fitto automatico! Quello, vitalità! Bene! Eccolo là! Ehm... Nooo... Basso, questi rostri! Oh, ma... Perché mi devi fare incazzare? Ehm... Ehm... Il luce... Ehm... Ehm... Gia... Ok, ora sto che è magia! Da lì! Ehm... Magia... Ok, ora sto che è magia! Da lì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, quindi più o meno a livello di prima. Aspetta. Quattro, sette e quattro, bene. Va bene il pari. C'è troppo il pari. Usa forza. Aspuzia, pausa l'ascuzia. 6, 2, 8, 10. Ah, va bene. Aspuzia. 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 Aspuzia.